Buongiorno, buonasera ragazzi, benvenuti in un video in live in realtà, quindi se avete qualcosa nella chat, non è un problema. Allora, domanda rapida a un video di dollari, la pace è minimamente utile? Lo scopriremo solo vivendo, credo. Ha portato sciura, quindi è utile, per forza. Ma non lo volevi, sciura? Eh, però con le di Fiserotte, ammetto che è divertente. Il Pamir che cosa offre? Lune? No, e basta, lune. Lune basta, se ci avete già fate comunque due, tre drive, vi dà un po' di roba, eccetera. Ok, Grimson Melody, ah sì, lo skin flip con la skin di Milo DC. Chi diavolo è questo? È Milo DC, te l'ho appena detto. Ma no, cioè, è orribile. Porca troia. Sono un po' confuso. Dio a che età, raga. No, no, ma i costume li hanno messi addosso, il problema. Esatto, di pelle rossa così, ne sa un bocca, bravissimo. Trisor Hunter non hanno messo lo scambio per le 40, ma l'hanno mandato dopo in post della serie Ops, ce l'avevano dimenticati, che da un po' che ora. Rapidi. Questo skin, allora, non ci sono skin, però è utile, c'è due casse con due doppie speed dentro, se scolate quello. Il quarto geno. Uno è singola, uno. Non vedo molto. Sì, uno è singola e uno è doppio, vabbè, comunque, è un po' di perigione. Ma per Trisor si è di Trisor Queen, sicuramente. Sì, era Trisor Queen, palesemente. Comunque, ragione, pala, sto Trisor io lo fullo, perché mi piace, a parte dei doppi speed. C'è un doppia speed, quindi... Eh, ma poi sono due tomi e un volume di Shura, e più tutti vivamente i fiori, che a me interessano principalmente i fiori. Oddio, ce ne so! Non ci sono quelli degli SS, quando entrò gli SS con i tomi verdi, ce ne sono di meglio visto prima. No, no, vabbè, voglia, ce ne so, ce ne so. Ciao, quello sicuramente. Poi, andiamo a vedere che c'è. Allora, questa è la Mishura. Pamir, giustamente, l'abbiamo visto prima. Ah, sì, queste cose delle cose delle cose. Pamir, World of Fortune. Fortuna. Mi dai i cuori? No, eh? Mi hanno dovuto far fare a mano? Mi dai i cuori, vai a fare in culo. Ah, è anche sculato. Sì, peccato che è l'unica volta in cui non volevo. Vabbè, Rebendisciur è 333, immagino. Sì, sì, ma più cosa che se più lo cambiano. Ciao, ciao. Per lui, per me era utile, per l'altro gli serve tutto. Sì, fatti. Sì, sì, assolutamente. Non l'ha ancora pullato, Sesmo. No, tranquilli, ragazzi. Non ho fatto niente. Pulliamo dopo la Giamiracca perché io sto morello, come si può intuire facilmente. Un mal di destra è verificante. Stai registrando? Non dire queste cose. Ah, sì, giusto. Che cosa hanno messo mai più nella patch? Andiamo a vederla. Fate la prendere, sono curioso perché mi sembra che siano finiti gli eventi. Non che mi sorprenda la cosa. Insomma, non è che non ce ne fossero. No, infatti, considerato che c'è il PG nuovo, ci starebbe. Adesso, vediamo una cosina. Ovviamente ci sarà il video. No, non c'è il video. Attenzione. C'era il video. Incredibile. La costellazione è a sinistra. Vabbè, per pullare ci sarà l'altro video che uscirà il giorno dopo che vi vedrete questo. Stavo cercando una patchnote. Patchnote. Dov'è? L'ho messa. Ah, eccola. Allora. Skinflip. Treasure Hunter. Ah, giusto. L'unica cosa effettivamente utile che hanno messo è questa. Ma solo perché ha il cosmo nuovo. Quindi se ne fate due da qua, o uno da qua e due dal Treasure Hunter, qual è quello doppio che ci sta a doppio? Dov'è il Treasure? Il Treasure? Il Treasure. Eccolo qui. Però, attenzione, perché c'è un altro cosmo molto carino lì dentro. Qui, dici? No, il Blessing. Ah, quello giallo che dici di prima? Secondo me... Quindi questo. Carino, perché da speed e difese come base, sappiamo che le difese e la speed sono le uniche due cose che ora contano. Effettivamente. Andiamo a vederlo, perché sinceramente non voglio di avercelo proprio. Ah, giusto, per vedere le statistiche però mi servono. Vediamo se ce l'ho. Non so. Sono abbastanza certo che non ce l'ho. Sto meglio. Però mi fa piacere sembrare che sto meglio. Sto peggio in realtà. Eccolo. Difesa cosmica solo però. È del percentuale. È la meglio fatta. Però vabbè. Ci prova. Sì. Si difende meglio di altri. Cioè meglio dei Jedi, per capirci. Si difende comunque molto meglio di quasi tutti quelli con speed. Anche del Battlefield. Ma sto magari è il mirror del room fate. Sì, è il room fate. Comunque, pace per fortuna abbastanza standardizzata. Il problema tanto è lui. Perché adesso andremo a pullare. Lo vedremo in Jamir. Lo vedremo un po' in giro. Vabbè. Appena pieno di medicina. Vedrai tra un po'. Penso sarà molto carino da vedere. Perché secondo me o è iperrotto. Oppure una settimana e muore. Non lo so. Vediamo. Perché il costo di Tommy l'abbiamo già detto. E non ne usciamo. Secondo me. Non si può giocare sotto con le cose. Però vediamo. Vediamolo in partita. Tanto sicuramente nel Jamir lo vedremo oggi. Sono sicurissimi. Anche perché chi c'è nel Jamir rimasto. Gray, Fakir. Mamma mia, i quarti. Che sfiga. Beh. Sì. Penso di che lo vedremo. Penso di che lo vedremo. Allora. Auguro buona fortuna. Yay. Baby. Sì. Gray e Rosa. Ovviamente. Ma il Fakir ho tanta sfiga. Speriamo che per una volta disibruci l'account. Definitivamente. Un po' verità. E niente. Direi che la pace era questa. C'era veramente inutile. Ah. Per chi se lo chiedeva. No. Non hanno risolto le difese. E no. Non hanno fatto assolutamente nulla su nulla. Anche perché. Non hanno risolto è perché non sono interpretate come un barco. Dubito che era risolto mai. Messo che prendano in considerazione che forse c'è qualcosa che non va. C'era una domanda di quelle furbe del Q&A? Ah. Vediamo un po'. No. Non c'è proprio il Q&A? Mamma mia. Si vede che erano in vacanza. Proprio zero lavoro. Mamma mia. Va bene stare in vacanza però. Ah. Ma aspetta. Ecco perché non c'è il video in game. L'hanno messo sulla pagina Facebook. Ma aspetta. Ti c'è scorda di rispariarlo. Cioè ma così veramente hanno fatto lavoro zero pesciuna. Ma che cazzo? È il video che vedi anche una volta che è summonato. Lo puoi vedere da tutti i personaggi. Sì ma mi fa morire. No il video l'ho beccato prima. A me non me l'ha fatto. Sì sì. Dal video se lo pulli. Ma non te lo dà sempre e basta. Strana come cosa. Vabbè. Oddio. Potrebbe anche stare. La tranquilla. Vi porto notizie che oggi è uscito un altro indizio. E è ritornata la carica. La probabilità che il prossimo S nel China sarà di nuovo Manigoldo. Cioè. Era un po' morta l'idea. Oddio. Adesso è ritornata. Quindi speriamo che non lo sia. Ovviamente. Perché in questo periodo sarebbe anche basta. E... Boh. Vediamo che esce. Noi i video su Shira li porteremo con calma a fine settimana. Anche sperate che vi ripieni un po'. E... Boh. Vediamo che succederà. Comunque il gioco lo vedo abbastanza tranquillo. Perché è molto positivo. Grazie per aver visto il video. Ci vediamo questa sera in live con le sedi finali della Giabit. Ciao ciao. 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 Ciao.